Attenzione! Aggiornamento alla 12W04 di Minecraft, cioè il secondo pre-release della 1.2 rilasciato. Cosa c'è di nuovo? Bene. Primo. Adesso nella giunga è possibile torvare leopardi, ma per adesso sembra che non attaccano e che non droppino niente. Per le scimmie dobbiamo attendere. WTF? WTF! Secondo. Adesso nella creativa c'è l'uovo di leopardo, la sfera della bomba di Ghast, che per adesso, ha solo scopo di incendiare le cose e una notizia importante, è la pozione di incantamento che ti dà punti esperienza. E infine terzo. Adesso gli schelepri quando sono incendiati dalla luce del giorno cercano riparo nei posti bui, come per esempio le grotte. Un'altra piccola novità è che adesso le foglie di giungla droppano spesso il seme di albero di giungla al posto dell'albero normale. E sono stati corretti bug e difetti delle lingue del gioco. Almeno così dicono XD. Ok ragazzi questo è tutto. Nei prossimi episodi userò questa petc, però nel secondo episodio che ho già registrato non posso. Vabbè ragazzi ci sentiamo. Alla prossima.